L'arte curiosa. Questa magari la sapevi già, o forse no, chissà. Piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte. Simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera. Quella cosa particolare sull'artista è magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, già che ci sei, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego, ti prego, ti prego, grazie. L'ortus conclusus. No, non è una forma magica di Harry Potter. In latino è giardino recintato ed è la forma tipica di giardino medievale, legato soprattutto a monasteri e conventi, direttamente ispirato dall'interpretazione di un passo del Cantico dei Cantici, che recita giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. E quindi attenzione, se se ne parla in questi termini, significa che non ci troviamo solo di fronte ad un bel giardinetto, o meglio, c'è, c'è anche quello, ma non solo. Questo tipo di giardino, che ha un vero e proprio piccolo giardino, o meglio, uno spazio verde recintato da alte mura, diventa piuttosto di moda nel Medioevo, in monasteri e conventi. I giardini c'erano anche prima del Medioevo. Anzi, c'erano ed erano anche meglio di questi che andremo ad osservare. Basti pensare ai giardini delle ville romane, delle cose davvero pazzesche, che però, con lo spaldamento dell'impero, le distruzioni a seguire, si sono un po' perse dalla memoria collettiva e, stranamente, vengono proprio dimenticati. È anche grazie agli arabi e alla loro cultura arrivata fino a noi, assieme a piante esotiche come cedri, aranci e limoni, e grazie alle antichissime tecniche di coltivazione e figlie dirette dei giardini pensili di Babilonia. È proprio grazie a queste popolazioni tanto lontane da noi che si avrà il ritorno del giardino. Pare che Ruggero II, il primo re normanno di Sicilia, avesse una reggia con giardini cantati addirittura da poeti, che ne magnificavano i colori, il profumo e i suoni. Già, perché ovviamente un bello spazio verde richiama anche uccellini vari e quindi possiamo subito immaginare come questo concetto di giardino diventi anche una palestra di tutti i sensi, vista, udito, tatto e olfatto. E qui possiamo solo immaginarli anche attraverso i mosaici di Palazzo dei Normanni. Nella sala di Ruggero che si deve però al figlio Guglielmo I, con immagini che sono sicuramente legate alla narrazione simbolica del Genoardo, un paradiso in forma di giardino, di tradizione islamica, cui si è ispirato anche il castello della Zisa, con un parco abbellito e rinfrescato da incredibili fontane. In ambito religioso si parla spesso di giardino dell'Eden, è il paradiso. Da un punto di vista iconografico e religioso, quindi, i giardini dei monaci medievali rappresentano uno spazio protetto e riservato alla meditazione e alla preghiera, ma anche ad una coltivazione pratica per quelle piccole piante preziose per cucinare o per realizzare medicinali vari. La forma stessa dei giardini nei chiostri è simbolica. Se lo spazio è ampio, segue la regola benedettina ed è diviso in quattro parti, orti, frutti, giardino con alberi e la parte dedicata esclusivamente alle piante officinali. All'incrocio dei vialetti troviamo spesso un albero che rimanda all'albero della conoscenza dell'Eden o al legno della croce. Giardino sì, ma simbolico e strettamente legato alla religione. I chiostri dei monaci diventeranno quindi dei veri e piccoli gioielli verdi, con meli, peschi, mandorli, fino ad arrivare ad un eccesso di ricchezza di coltivazioni e abbellimenti, tanto che nel 1216 alle congregazioni vallombrosane viene addirittura proibito di tenere nei chiostri fiere e uccelli esotici per diletto. Siccome in un brano del Mariale, dell'abate di Persigna, il religioso paragona la Madonna a un giardino chiuso, ricco di fiori simbolici, ecco che in molte raffigurazioni della Vergine la troviamo proprio in un orto sconcluso o con un piccolo giardino prezioso che fa da sfondo e ambientazione. A volte lo spazio chiuso è ben definito, altre volte rimane solo un accenno di muretto e il giardino fa da sfondo come nella Madonna del Cancelliere Rowling di Van Eyck. Nel giardino nascono fiori che alludono alle caratteristiche della Madonna, il giglio bianco allude alla verginità, la violetta simboleggia l'umiltà e la rosa rappresenta la carità. A volte, come nell'orto concluso reale, quello dei chiostri, al centro troviamo un albero che è quello della conoscenza e dell'acqua, una fontana, che è poi la fonte della vita. L'immagine sacra ha poi una sua variante, è la caccia mistica, spesso raffigurata all'interno di un bosco chiuso, un barco, una riserva reale di caccia. Qui si vede la Vergine che addomestica un unicorno, immagine che rimanda sia all'incarnazione, ma si allaccia anche ai temi dell'amor cortese, che ha come scenario ovviamente il giardino cortese, luogo di delizie, dove ci si riunisce attorno alla fontana dell'amore, in pratica una sorta di paradiso in terra, il mondo perfetto del Roman de la Rose, il poema allegorico del 1200 che ispirò successivamente anche Dante per alcuni suoi scritti come fiore e detto d'amore. E così l'ortus conclusus si apre alla vita terrena. Grazie